Siamo qui con l'ex ministro dell'Economia e delle Finanze, il professore Giulio Tremondi, che è stato ospite questo pomeriggio all'Università di Catania, Dipartimento di Economia e di Impresa, per presentare e anche parlare di questo suo libro interessante e notevole, che sono le tre profezie appunti per il futuro. Sicuramente, professore, lei tocca degli argomenti che sono di estrema importanza, facendo un excursus storico, partendo da Marx e il declino della globalizzazione, dal Fausto di Ghetta, il mondo digitale, Leopardi e anche la crisi delle civiltà globali. Sicuramente questa analisi è un'analisi molto particolare e parla anche, è rivelatrice, sulla fine del mondo, del populismo e la speranza per uno futuro anche con l'Europa. Ci sarà? Senta, l'America ha due secoli con in mezzo una guerra, l'Europa viene da mille anni fa, ma quella politica ha 70 anni, 70 anni sono pochi, siamo in una crisi, ma sicuramente ci sarà anche l'Europa. Che cosa sarebbe giusto avere, è bello avere, un'Europa che parla con i popoli. Allora, se lei va in un bar e dice ci vuole più unione bancaria, magari la prendono a calci. Se lei va nel bar e dice ci vuole una difesa comune, un esercito comune, magari le pagano da bere. Cosa voglio dire? Se l'Europa si avvicina ai popoli e quello che i popoli vogliono, in questo momento vogliono sicurezza, hanno paura, funziona. Se gli va a dire che ci vuole unione bancaria, magari non è esattamente l'idea giusta d'Europa. Lei anche, in questo suo libro, parla e fa anche un'analisi per quanto riguarda il cambiamento che c'è stato anche delle classi politiche. D'altra parte siamo forzati da una democrazia a una globalizzazione. Il libro non parla di politica italiana, quindi certamente una volta la politica, era fatta, senta, guardi, lo tira giù anche dalle rette il Trattato di Roma, 1957. Lei vede chi l'ha firmato, sono foto bianco e nero, ma sono uomini, gente che ha fatto la guerra, la resistenza, la prigione, le idee. Guardi le foto di adesso, le foto europee di adesso, sono a colori, non sono più in bianco e nero, ma sembrano di scappate di casa. Sì, questo fa riflettere parecchio, alla luce della sua grande esperienza, che io stimo tantissimo, lo considero un grande economista. Le chiedo qualcosa che forse magari lei non si vorrà molto approfondire. La classe politica di adesso sono tutte classi politiche che ci lasciano a desiderare. Ci si può aspettare qualcosa di più, soprattutto questo grave problema che è nato dei poteri forti? Credo che i poteri forti non siano più forti come una volta. Gli italiani sono un grande popolo, votano, voteranno, io sono positivo e ottimista, nonostante tutto. Ci troviamo nell'aula magna dell'Università di Catania, del Dipartimento di Economia e Impresa, dove si è svolta un'interessante conferenza e incontro con l'ex ministro Giulio Tremonti, che ha presentato questo suo ultimo libro, Le tre profilzie appunti per il futuro. Diciamo che è un libro interessante, particolare, che affronta diverse problematiche, che sono quelle sempre anche in rapporto alla democrazia e alla globalizzazione. Qui abbiamo avuto il moderatore, che è il professore Caserta, ordinario di Economia, non sbaglio? Bene, allora, professore, quindi cosa può dirci di questo incontro, di questo libro? E che proiezione abbiamo appunto per il futuro di un'economia che va ogni giorno, è sempre più in crisi e che predirige di più i poteri forti? Il libro del professor Tremonti è una disamina attenta di alcune tendenze che già osserviamo da tempo, che riguardano i mercati, che riguardano il mondo digitale, che riguardano il disordine politico. Credo che tutti abbiamo questa percezione che qualcosa ci stia sfuggendo di mano e la preoccupazione maggiore è che stia sfuggendo di mano a chi ha responsabilità di governo. Pertanto lo sforzo di mettere ordine è individuare, se è possibile, alcune linee da intraprendere. In effetti, Giulio Tremonti in questo libro, pur facendo un'analisi abbastanza cruda dei fatti e delle tendenze di questi ultimi decenni, individua una strada. E la strada è l'equilibrio, la necessità di tenere conto che bisogna allargare gli scambi, ma non possiamo negare che i paesi hanno un'identità, hanno una storia, hanno bisogno di protezione. A un certo punto nel libro parla di giusto mezzo. Credo che non sia semplicemente una media, ma esercitare la virtù dell'equilibrio. Questo forse non si trova in questo momento nel mercato politico e quindi il fatto che un vecchio della politica italiana, non certo in termini anagrafici, inviti al giusto mezzo, credo che sia un fatto importante. Grazie. Grazie.